Musica Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale Eccoci qui di nuovo con Vampire Riprendiamo da dove ci siamo lasciati Più o meno da dove ci siamo lasciati Perché nel frattempo Ho visto che avevamo notato l'ultima volta che ci siamo visti Abbiamo concluso il video Passando la notte alcune persone si erano ammalate Quindi io ho pensato di andare da quelle persone Curarle e farmi qualche altro giro così random Il problema è che poi passata un'altra notte Si sono riammalate tantissime altre persone addirittura Se non sbaglio Sì qua da come era disinfettato Disinfettato Sono apparse tante persone colpite da stanchezza Uno, due, tre, quattro, cinque Sì sei tutti da stanchezza Quindi dobbiamo procurarci il necessario Qui avevo curato chi stava male Qui avevo curato questi due che avevano problemi E' apparso questo che c'è il raffreddore Quindi raffreddore e sei mal di testa Ci abbiamo le medicine? Non lo so perché io le avevo fatte un attimino ma poi Avevo salvato prima Forse abbiamo anche qualche campione Tra l'altro altra cosa che non so se avevamo visto o meno Ma siamo con L'ammazzadraghi e il paletto al massimo Perché andando in questa zona di Whitechapel C'è uno di questi mercanti Non mi ricordo Quello che litigava col suo amico Che era andato a letto con la moglie del suo amico Vabbè uno di questi che vendeva i pezzi che ci servivano E quindi ho migliorato questi due Costano un fottio Quindi mi sono venduto un po' di robe E fatemi vedere un attimo se ce l'abbiamo Quelli per il raffreddore Per Stanchezza si le avevo fatte 8 Anche il raffreddore da qualche parte Ce li avevamo Questi che ne abbiamo di meno Sono emicranie e mal di testa Però sono Malattie un po' più Prepotenti Vabbè quindi tocca andarli ad aiutare Ma Prima di tutto Come detto in ospedale non c'è nessuno Al porto c'è quello lì E qua un botto di gente Al porto questi qua Vabbè andiamo per il momento Verso la missione principale Che dite? Direi di sì Mentre per quanto riguarda le missioni secondarie Mi sa che le abbiamo No non tutte dobbiamo cercare Quello che sa leggere L'alfabeto Braille Braille Chiamatelo come volete Braille mi pare più Da marca de De robe Braille braille Ehm Possiamo passare dal ponte lì sotto Ok Va bene Namo va Come detto Quelle missioni secondarie Me le ero fatte per conto mio Ho detto magari Velocizziamo un po' Le cose Noi siamo passati sotto il ponte Dovevo stare sopra Va Ma Alla fine no Non ho velocizzato Perché gli altri sono ammalati Ancora peggio Cioè La stanchezza è il primo Punto però Arie ecco I am not your champion But of course you are son As surely as you are the blood of my blood I had to kill Mary I have known your pain Child Do not succumb to Silence I dismiss you Now The land calls for a champion All and everyone needs you Silence Ok Noi proseguiamo Proseguiamo per la nostra Missione Dando un'occhiata anche in giro Ma qua c'eravamo stati In questa zona Eh di solito passavamo da qui No mi sembra che qua poi Non O forse c'era capitato E' anche possibile Eh no io là non posso andare Per questo ci fa Eh ma a quanto pare Gli è toccato Gli è toccato Mi guardo sempre le spalle Perché di solito questi respawno Eh iniziano Cioè iniziano Sono comunque di Buon livello Aspetta No Vieni qua Poi appena possiamo Ci rimaniamo pure qualcun altro Eh don't worry Vaffanculo Bam Vabbè don't worry Don't worry Stai Stai sereno Stai sereno Che arriviamo Tac Guarda come separano pure questi Attacci loro Ok Ho lasciato qualcosina Va bene Dopodiché Da qui no Dobbiamo fare il giro Dove stavamo prima Qua non si può passare Scusa dove cazzo passo Ah adesso si ok Sembrava strano Prendiamo Il prendibile Lì sotto anche stanno Combattendo Sono di livello 18 Quindi rispetto a questi qua Un po' più basso Ne andiamo giusti Controllo spesso Perché qua mi sa che Rischiamo di perderci male Sbagliato Ho stonato pure quell'altro Ma va bene Ok Tutto starello Ma che è stato un bastardo Scusi Un altro Fottuto Vampiro De merda Merda Mazza è tosto pure lui Soprattutto c'è quella Spadaccia che Spacca dei culi Ok Non è che mi dè la sua spada Eventualmente No eh Peccato Peccato Per quanto anche la nostra Adesso è abbastanza Migliorata Rispetto all'inizio Con tutte Quei livellamenti Fatti Ci volevano parti buone Che come detto Ho comprato da quel tipo A caro prezzo Tra l'altro Perché veramente Ce l'ha fatta pagare An occhio della testa Eh Qua riusciamo da dove Stavamo Aspettate Fatemi No sta zona comunque Non ce la siamo vista Le altre volte Beh diciamo di sì Dai Non è proprio Una baracca Anzi Anzi Dr. Reed Welcome How are you? As good as one can be Considering the circumstances Yes Death and affliction Seem prevailing themes of late Please Come in We have much to discuss I hope I haven't disturbed you Not at all Actually I was counting on you Visiting me tonight How strange this painting Beautiful melancholic Yet with a haunting dignity Indeed A long time ago A friend asked me to paint this for him But I kept it in the end I did not know you were a painter my lady There are many things you do not know about me Young Ekon Please Call me Jonathan Please excuse my behavior Jonathan I tend to choose my friend when I'm easy What is bothering you my lady? Your letter was quite alarming We will talk about this in a few minutes For now I would like you to tell me about yourself How have you been since we last met my friend? I came to the conclusion that my maker Whoever he might be Must be a powerful vampire Certainly extremely old How have you reached this conclusion? He is the only immortal I've seen Appear in an ethereal form His voice His words Seemed ancient It was disturbing I am afraid you are right The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon Proves That you must be of ancient lineage I felt this power Come sempre Chiediamo Cioè chiediamo Diciamo Tutto Quello che possiamo dire Vampires of England Were killed by the guard of Prewen Half a century ago I wonder who your maker could be You have no idea who he could be Some of the ancient ones fled England Some may still be in hiding All I know is you my friend Are a pawn in some secret and obscure game of chess My sister Mary She was made a vampire in the same way I was She was the one killing all those people everywhere I went Vengeance is a powerful force For those betrayed Made vampire through careless error Victims by surprise I swear I did not intend that If only I had known then how vampires are created That is the scientist speaking In truth Most of us do not know how it really works Personally I make sure my prey will not return to haunt me What do you mean? I am merciless Jonathan I only feed on the dying And I make sure they are dead before leaving their remains In the end she implored me to put an end to her misery But still I felt I had taken her life twice I am so sorry for my accidental cruelty Had I known your dear Mary was still alive I would never have sent you to pray for her soul in that church There is no need to apologize my lady Your words have been most helpful in these difficult times Thank you my friend If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare It's sad, sad, she agreed on the bomb I think I should ask the questions, your lady ship After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters Fair enough, Jonathan The situation is critical We do not have the luxury for etiquette Please do not misunderstand me I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities If we survive the Dark Nights to come We shall have all the time in the world to speak, you and I For now, please follow me, Jonathan Eh, vediamo un po', vediamo un po' Infatti dicevo, un po' siamo rubaniete Questa c'è di se d'ora Quindi che fa? Odorano, saporano e sputa, no? No, odorano solo, ok Please, call me Elizabeth So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club Eh, ok Why is you to contact me? Because they know we are close The Ascalon Club has many spies Their main occupation is gathering information And then deciding how to use it Have they threatened you in any way? Not at all Their message surprised me at first But it is only logical Considering the critical situation in London Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon For I am a woman That suits me well As long as they leave me alone Who are they? Really? They are the embodiment of vampire lore Sì, abbiamo già avuto qualche info a riguardo They influence the destiny of the Empire Some believe they merely protected How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets Influencing trade Will they fight the guard of Priwen? I doubt it Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day By defeating that beast You deprived them of a powerful weapon Should I trust them? Of course not Do not misunderstand me They can be very useful But I believe their long-term goals differ from yours Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent They could be powerful allies in this current situation Should I lie to them? We all lie, Jonathan It falls to you to choose your behavior The most important rule is to show them due respect They have done nothing but impeded my investigation since I became known to them Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material They must have found out what happened to your sister Proof of the potent blood flowing through your veins I'm not sure I can accept their invitation I have seen their handiwork How Fergal the beast imposed the club's law You have no choice, Jonathan Even I would not openly defy Lord Redgrave The chairman of the Ascalon Club Vabbè, chiediamo anche qui informazioni sul tipo Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club Most mortals know him as the Earl of Bristol He is rich and extremely influential Have you met him? Only on rare occasions For he never goes outside the club And women are not awarded membership Even immortals How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall The most valiant knight who ever lived If that is true, he could be very old How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England Not all its members are immortals But they are all very powerful They are not all immortals? How is that? The club is mainly comprised of political figures Who seek the safety and expansion of the empire The most loyal are awarded immortality Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material And has been watched for years If you are convinced I must meet him, I will heed your advice Thank you, Jonathan I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite But we have no choice Is the situation that critical? Yes The guard of Priwen has called for a second great hunt of our kind And they will stop at nothing to eliminate us What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago Ci facciamo questa chiacchierata con attenzione Non sto neanche interrompendo Interrompendo Why start a second one? Priwen has always seen us immortals as a threat to mankind My guess is they suspect one or more of us is the cause of the epidemic How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan Like most vampires who survived that slaughter And I secretly came back when I was sure they had lost my trail Comunque visivamente noi siamo messi molto peggio di lei Cioè a parte tutto lei sarà una Molto più anziana di noi Nell'ambito del ciuccia sangue Ma noi guarda là stiamo messi veramente male Ma già da dopo due minuti però Cioè proprio visivamente Comunque visivamente They are a resourceful lot Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again I admire your courage, Jonathan But the best way to fight them is to put an end to the epidemic This is the only way to clear the air You should flee then Leave London, the country even Eh beh giustamente I soldi non mancano I doubt it If Lord Redgrave had made you his progeny He would not have seemed so surprised When you demonstrated the strength of your lineage Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not Jonathan We know for sure you were made by a powerful vampire But most of those fled England long ago Please forgive my bluntness Says I'm Matt, yeah Was it you? Did you make me? Oh Jonathan I know you shall always have a gnawing doubt About who made you an immortal But I swear I had nothing to do with it You have no idea at all You seem to know so many things About the secrets of the vampire underworld Even if I had my suspicions I would not dare give you a name so soon All I can say is this I will make inquiries And keep you informed Vedremo se magari Notifica le info o meno Eh si perchè siamo anche curiosi di sapere chi è stato E perchè Go to Ascalon Accept their proposition And use their influence to promote your agenda How can I save London? The epidemic is the priority You must find its origin And put an end to it This is the best way to solve the crisis What will you do? I still have contacts and old friends in this town I shall make some inquiries And attempt to learn more of the situation We need clarity Okay One day soon I will have to find the answer to this mystery And I shall help you in your research I promise For now You must go to the Ascalon club And play their game Will I see you again at the Pembroke hospital? No You will find me here if you need me I shall conduct inquiries alone And we can then share our discoveries When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave I suppose Fear not my dear I shall only be a heart's beat away Will you not visit Pembroke again? No I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke hospital for the time being But how will you sustain yourself? I shall not Jonathan Fear not I'm used to it Beh Più o meno Più o meno Non direi però Eh solo questa è una notizia felice però vabbè Dei far marpione un po' I best prepare myself to meet this Lord Redgrave now How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak Something tells me you're not very keen on the man Don't get me wrong The gentlemen of the Ascalon club are honorable But their attitude and opinions are somewhat antiquated I see Guarda lago me stamo messi If I have access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things Jonathan Promise me you'll be careful Of course But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan I am I mean Really look at me, young Ekon We may be deceptive by nature But this heart of mine has always told the truth Oh, Elizabeth Go, my friend Come back to me soon Eh sì, sì, c'è del tenero, c'è del tenero In quest'area molto English comunque, molto British, giustamente Sempre molto eleganti, te, chiacchierate Lord, milady Eh, andiamo a spaccate i culi, però La grande caccia Questa è fatta Time to visit the Ascalon club Che, che Si trova Neanche così Ah, ci dobbiamo riparlare Nuovo dialogo disponibile Che cazzo Aspetta Eh, scusa Se c'è sta la chiacchierata Ma la poteva far prima, no? Datemi un attimo Datemi un attimo Siamo tornati Probabilmente possiamo anche shippare delle robe Eh Vista la casa Magari troviamo pure robe interessanti, no? Scusi Se ne approfitto, ma Dove sta Piano di sopra, sì Vediamo se è un invito Andiamo Nel frattempo Ah, quasi riscendo Aspetta un attimo Cioè tutto sto casolare Addirittura Bram Stoker Gli ha scritto nel 1897 Bene Direttamente Autografato Il romanzo di Dracula Ok Qua ci vuole la chiave Vabbè Salve C'è un dialogo disponibile A quanto pare Quindi mi dica Ah, non ho una cosa No, 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 Jonathan Ho visto alcuni giorni In mio lungo L'esperienza Mi ha insegnato Che uno Non può Outrun Le fete Quando tutto questo È over La via La via È sempre Complicata Per i nostri Cruces La novità Ma sì Sì Seria felicità Di viaggiare Il mondo Con te Mi dica Scusi Scusi Mi Scusi Un giorno Lady Asprey Una Dica Paglia I have had so many lives Jonathan Eternity may not be enough To relate them all Concerning your investigation Yes Are you truly seeking To identify my maker I cannot promise you anything But yes I am conducting Some research of my own Do you know If the epidemic Has affected many people In the west end I confess I've been more concerned By events in the east end The wealthy Have more efficient ways Of dealing with infection But this is no common epidemic That is true I must tell my daughter To stay at home For a few days But the girl Is stubborn And fiercely independent Much like her mother Ok Vabbè Non è che c'era Sto Gran che da dire Non abbiamo neanche potuto Fregare grandi cose Però Damo se Ci andiamo a presentare Al club Poi dovremmo andare Anche a portare Le medicine Ai vari soggettoni Ammalati In giro per i quartieri Cioè al porto Si sente anche un po' De gente che non sta bene Comunque Per il momento Andiamo Verso il nostro obiettivo Sempre che si possa passare Da ste parti Non credo No però aspetta Ok Perché questa era Una porta chiusa Perché forse C'eravamo passati All'altro lato O No questo è il quartiere Che non abbiamo ancora visto In realtà E Ok Quindi Quindi dobbiamo Si ci ha sbloccato questo Ma dobbiamo trovare Un'altra strada A quanto pare Aspetta Ok 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 E fa mergiro Anche se Dobbiamo pure capire Se dall'altro lato Si apre o meno Si possiamo anche Bellamente evitare La situazione Vabbè Lasciamolo in lava Sti cazzo Scusa Che c'è Frey E E E E E E E Un po' di robe In giro Non giusti Si Dobbiamo solo trovare Non possiamo correre Se ve lo state chiedendo Eh a quanto pare No Comunque Comunque Fatemi vedere Un attimo Una cosa Perché noi Come detto Qua sopra Forse ci potevamo Passare Ma stava Adesso riproviamo Perché c'era La cazzi Diciamo Da quel lato Quindi magari Adesso Se lo sblocca Bene E Non posso salire Qui sopra Allora Questa vediamo Magari la possiamo Sbloccare Perfetto Ci ha sbloccato Questa qui Ok Da lì White chopper Allora Allora Anche qui Poi ci sarà Da Spippolare Un pochino In questa zona Salve Cazzo Livello 29 Ma che stai fuori Porca Troia Ma che stai fuori Livello 29 Mi sembra un po' Eccessivo Comunque Cioè pure questi Ci devastano L'anima Eh c'è Umare Guarda là Ma scusa Non gli aveva Succhiato un po' De sangue No No vabbè Livello 29 Questi Come vedete Ci Devastano L'anima Cazzo Aia Allora Momento Sì tutto sto bordello Però Recuperiamo un po' Di salute Aspetta che ci sono Dei sorci Ma gli estremi Estremi rimedi Conviene passare Forse Da quest'altro Lato Questa zona Mi sa che Bella Tostarella Comunque Questo livello 24 È già più Fattibile Vabbè Del glorioso Allora E Fattore E apporado Lo spiritoso Vai di cattigare Ok Giusti Eh io opterei per andare Verso il mio obiettivo Eh Adesso mi sbloccherà tutti i cittadini Anche di questa zona e sarà Una cacciara pure qua perché dovremmo curare Anche loro sicuramente quindi Dai Ah questa è la figlia Sì vabbè noi siamo abbastanza riconoscibili Effettivamente Anche qui vabbè sta bene Eh pure qua c'è Vedete un bel po' di cose Non si offenda non si offenda Allora ho scoperto la verità per un tempo prima di quello che pensi di questa parte della città? Mi sono nata qui e credo che sembrava di casa. Hai cresciuto in questa parte della città anche, non? Sì, ero nato un po' vicino. Un mondo piccolo, non? Hai mai pensato che mia madre era la vostra vecchia all'ora? Che tu potessi metterla in un'allia d'amore all'interno? Tu non mi tricciate a volte, ragazza. Abbiamo tutti conosciuto che Lady Asprey non ha oltre o attacchi a prei. Come on, Doctor. Non mi non pensi che mai aveva pensato di questa possibilità. Ha fang sull'occhio? Oh, stai sbagliando, Dr. Reed? C'è qualcosa che ti preoccupa? È molto semplice e individualismo per il mio taste. Anche quando non c'è una epidemia. Anche se questo è parte di vero, posso te ricordare che molte instituzioni caratteristiche sono finanziate da l'amore e sbagliato? Penso che sei vero. Ma la società deve rafforzare e rafforzare si rafforzare, o ci siamo tutti per faremo. Cosa faci qui? Cosa faccio qui? Hai pensato di do azione? E' la stessa situazione per un uomo? Inoltre, sì. E' la stessa situazione, dai. Cosa faccio? Cosa faccio? Beh, se lo devi sapere, ho campanello per il giro di votare per tutte le donne. Cosa devo aspettare per 30 anni, quando i ragazzi possono votare a 21 anni? Sei una suffrazione? Oh, tu davvero è Elizabeth's girl, senza dubbio. Tutte le donne adulte hanno il righte a votare in USA, New Zealand, e in Australia. Ma le donne qui non possono votare se sono i propri proprietari. Non bisogna convincere me, Miss Charlotte. Mi ho condivido la tua opinione durante un tempo, anche prima di metterci a Emmeline Pankhurst. Sì? Oh, ora vedo perché mia madre apprezzate te tanto. Eh, lascia fare. Eh, qua poi sblocchiamo nuove missioni secondarie, giustamente. Questo dovrebbe essere l'ultimo quartiere. Eh, vedremo, vedremo. Fatti nuova indagine. C'è cosa che hai detto con te? Il nome e profession, sicuramente. E il mistero della tua. Mi senti a sentire cosa succede con te, signore. La madre dice che non è l'unica. Non lo so che non lo so che non lo so? Non lo so che non lo so che non lo so? C'è la madre? Perché non lo so? La madre è la madre più compasione. E una voce di assicurare. E la madre deve essere assicurata delle ecstime, Dr. Reed? O tu? Dovielmente non è. No. Tu non c'è nulla per farlo di me, o dottore. Blivencia non lo so. E non lo so. E non lo so. Mi madre ha suonato tutto quello che ho bisogno di capire sui vampiri. Il giusto e i le riemi. Ok, allora, un paio di indizi, vabbè, giustamente, questa era la vita a Londra, eh, ora Ah, qua Ok, vabbè, le altre poi le faremo quando possibile Ok, qui ci sono anche altri soggettoni, perché qui abbiamo altri due, ne ho addocchiati Qui abbiamo quest'altro quartiere, ce ne sono un bel po', questo qui, questo qui E noi dov'è che possiamo andare eventualmente a salvare? Qui nel baracchino Negozio Eh, giustamente Allora, allora, no, andrei anche un attimino nella nostra... ma si può... Eh sì, perché mi sa che... è qui che possiamo stare, dall'altro lato c'eravano già stati, quindi... Salve, ah, c'è anche il maggiordomo tipo... Tomb Raider, lo chiudiamo nel frigo Credo ci sia la... c'è la frigo in quest'epoca, soprattutto in... queste condizioni E... eeeh... 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 massimo sacchi di ghiaccio Non so se usavano tipo... It's locked, alright Se riportavano direttamente al ghiaccio Credo neanche quel... mi scusi Si può... Allora, allora, vediamo un pochino ragazzi Perché qua ci sono veramente tante persone con cui parlare Tante cose da fare Facciamo che iniziamo a chiacchierare un po' anche con questi Tra cui appunto la madre di Jonathan Eh ma diciamo... Eh ma diciamo... Eh, allora, vediamo un attimo... Livello medico sta bene No, vabbè, mi pare brutta mamma Eeeh... Allora... Vabbè dai called Avery from the station I don't know what would have happened Mother Do you know what's been going on in this area? Not really I don't go out much due to the epidemic and when I do I tend to get lost What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone Of course not When I go out your father always comes with me but he leaves me there sometimes and I have trouble finding the way back Allora, allora Andiamo un attimino Eh, perché qua poi ci daranno anche missioni secondarie e altre cose, ma Your room is ready I asked Avery to make your bed I'll stay as long as I can I promise Do you need anything else? Just one thing Stop staring at me like that As much as I love you It breaks my heart to look at those empty and dead eyes Are you working on a new painting? Not recently I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts It's the same thing when I try to write poetry I recently met a talented painter With an excellent technique I wish you two could meet I'm sure you'd like her I'd be glad to meet her What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous And her name is of no importance And yes She is also dead The important thing is I hope you two get along If she ever fancies meeting your mother I'd be glad to welcome her I'd be glad to welcome her into my home Why do you say Mary is visiting you, mother? You know that's impossible Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? But Mary really is dead, mother Yes And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson And my son-in-law You're all gone But you all still visit me from time to time Se, come hai detto Non è che sia benissimo In generale, però I'm really here Talking to you Trying not to Cry Oh, it breaks my heart To have to tell you this But of course you're dead, my darling boy Just look at you As pale as my Mary Eh, però Come da un certo punto di vista Non ha neanche tutti i torti Ehm Comunque Nonostante La sua precaria sanità mentale Però quegli sprazzi di Realtà Li carpisce Anzi Forse meglio di altri Meglio di altri Aspetta che sta Per succedere qualcosa Dove mi devo piazzare? Ah, di qua Eh, aspetta Posso entrare? No Come cazzo? Aspetta Devo uscire da qua Un attimo Eh, qui si vede la sua Poca sanità mentale That way I'm sure One of my children Will give me grandchildren I understand your thirst for knowledge, Jonathan And your father and I are proud of it But you are not that young anymore, my son When will I meet your soulmate? You could ascribe my romantic tendencies to my French origins if you want, Aubrey But I'll never cease to believe in a match made in heaven My beloved Ok, vabbè Eh, il fatto è che non posso Cioè, vorrei Vabbè Come detto, il nostro obiettivo ce l'abbiamo Però, aspetta Vediamo se ci ha sbloccato qualcosa Cosa abbiamo preso Non so Ma va bene Aspetta Eh No, in realtà non Ah, ok Do you really see Mary? And father? Do you also see me as one of the dead? Yes For many years it was just a game Since your father left us without a word I took to the habit of speaking to him Yes, I remember I sometimes spied on you And listened to you talking with father in the garden It made me so angry then But it was just a game, wasn't it? Yes, it was But since then my poor dead Mary visited me in my room She led me to her grave and there you were I now know the dead can haunt us I'm so sorry You did not deserve to endure this Mary should never have done this to you That's true, my son But you know what the worst part is I liked it when Mary spoke in my head Now she is silent And it makes me so sad Should I leave you alone? Just ask And I swear you'll never hear from me again Oh no, Johnny You're always welcome in this house And one day When I finally die We'll all be together again Just as Mary promised us Goodbye, mother Try to rest now Goodbye, son Please come back soon Ok Come detto Un po' di chiacchiere con questi ci stanno Poi dobbiamo curare anche altre persone Ma altra cosa anche che dobbiamo fare È Effettivamente Smangiucchiare qualcuno Qui abbiamo usato la chiave Che avevamo trovato nella nostra stanza Un pochino Un po' di chiacchiere con questi stanza Nuova indagine E nel frattempo Sarà la signora che sta un attimo Vabbè anche queste poi missioni secondarie Ce le facciamo E poi decidiamo anche Chi smangiucchiare In giro Perché effettivamente Abbiamo notato che questa zona È leggermente Tostarella Comunque Scendiamo perché ci sono altri personaggioni Ora in realtà non so neanche quanto Stiamo con il video A livello di Durata Poi ci regoliamo un attimo Qua posso Sta qua dentro Questo Sì ok Maggiordomo Attenzione Salve Averi Mr. Jonathan I can't believe my own eyes Oh it's a miracle We all thought you were Oh Sir your poor sister What a tragedy I know Avery I know about my sister's murder Miss Reed expected you to return to assist with the funeral Right up until the last minute Where have you been Mr. Jonathan We needed you here Beh vabbè questo sappiamo già che non sta benissimo però Miss Reed is very fragile since the police brought her back home The police? What happened? Miss Reed was found walking in the streets She kept saying she had spoken with her son and daughter She's resting now Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself Hospitals are so overwhelmed by the epidemic That they can only accept patients infected by influenza Perhaps we could arrange a short trip Somewhere sunny like France She has always been very fond of France I think leaving London could do her good I'm afraid Miss Reed is too frail for the moment Recently she started going out at night without remembering it Bene quindi Questo come sta tra l'altro non bene Ascinazione vabbè What is the situation in this part of town? For a time the West End seems spared by the epidemic But the situation is getting much worse Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir My sisters are dead And I've never met my nephews I'll stay, sir I'm sorry I could not be here for Mary's funeral Your mother was strong, sir But your support would have been appreciated Eh, lo so, però In realtà c'eravamo anche noi In realtà c'eravamo Ok, ok Eh, qua non credo ci abbia sbloccato nient'altro Ok, ok Eh, va bene Andiamo sulle domande personali Andiamo con anche la lettera Andiamo con anche la lettera Andiamo con la lettera Andiamo con la lettera Andiamo con la lettera Do you know anything about it, Avery? Your father wanted me to give you this letter For your 35th birthday But you left for the war And the letter remained in his office Until tonight I realize now You knew my father better than I did Do you know why he left, Avery? Did he ever speak to you about his departure? No, sir Mr. Reed was not exactly forthcoming Perhaps this letter will give you the information you'll require Tell me the truth, Avery Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir I have nowhere else to go And I promised your father I'd take care of his family as long as I live This house is dead, Avery There is a curse on this family You really should consider leaving If only you could have been here sooner or more often Maybe this house would not be that empty But you're here now, sir So my task is not over You have served this family extremely well, Avery Your support during these terrible times is much appreciated Then I will stay All I ask is that you take care of my own funeral If I die before the end of the epidemic No mass grave Please, sir Ma si Don't worry Don't worry Don't worry Sometimes your father too So she thinks I'm also dead And what about you? I believe she only sees her relatives as the dead she speaks to, Mr. Jonathan It breaks my heart to see Miss Reed like that My mother is gone, Avery Whatever illusions have clouded her mind They are too deeply rooted for any hope of recovery I beg to differ, Mr. Jonathan Your mother has always been strong She will get better with time Yes, vabba Do you really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, I do, Mr. Jonathan You clearly have something more to say Speak your mind, Avery I know you work hard to help the sick But what will you do once the epidemic is over? Vabba My home is here and I have nowhere else to go But this house will need some improvements if I move here Some radical changes That's good news Whatever changes you have in mind I'm sure we will find an arrangement that suits your mother also Okay Mhmm Questo abbiamo completato 4.000 esperienze Tra l'altro, però, vabbè Abbiamo fascinazione Fascinazione a 3 siamo Mhmm Perché mi ricorda questo? 4, boh Vabbè Comunque, ragazzi Abbiamo Siamo andati comunque per le lunghe Quindi direi di salutarci qui con questo episodio di Vampire Poi andremo a chiacchierare un po' con gli altri Curare, livellare, mangiare, fare cose E abbiamo veramente tanto da fare Quindi ci vediamo con il prossimo appuntamento Mi raccomando, come sempre, ragazzi Lasciate like, condividete Seguitemi su Instagram Twitch per le live Secondo canale dove riporto le live E attivate la campanellina per non perdervi le notifiche Intanto io qua, prima di dimenticarmi Mi attivo anche la missione Trova la seconda parte del testamento di tuo padre Questa la rintracciamo Perché potrebbe essere comunque da ste parti No, non è assolutamente vero Ma va bene Dai, ci vediamo con il prossimo episodio, ragazzi Un saluto a tutti da Queltaleale Ciao